Studiò all'Accademia di Firenze con benvenuti e con il pittore livornese Pollastrini, sto parlando dell'artista fiorentino Stefano Ussi, il suo percorso artistico è da collocare durante l'Ottocento in sostanza, attraverso l'Ottocento. Perché lo voglio ricordare? Lo voglio ricordare perché Ussi è stato un artista che ha saputo, certo premetto un aspetto fondamentale, quando si trattano questi artisti non c'è mai, non si commette l'errore critico di stabilire una comparazione tra artisti, piuttosto c'è l'attenzione per un'analisi storica del singolo artefice e quindi Ussi è stato pur attratto dall'ambiente macchiaiolo, ma era impossibile in Toscana non essere macchiaioli nell'Ottocento, però subito Ussi è riuscito a rimanere in una vena più retorica, più narrativa, diciamo aderente ad una sorta di purismo e ad una sorta di linguaggio storico, di carattere storico. Aspetti questi che non sono né trascurabili né sottovalutabili, se si pone mente al fatto che l'arte macchiaiola dell'Ottocento è stata non solo per Firenze, non solo per la Toscana, ma per un'intera generazione di artisti europei e internazionali un obbligo, un passaggio, parte da fattori al quale c'era parecchio da invidiare, soprattutto la felicità di certi annoculuti che non riuscirebbero a un letterato, ma in definitiva, ma in definitiva sottrarsi, cioè quando un artista riesce a sottrarsi dall'impressionismo, da Novecento, dai macchiaioli, palesa non tanto una bravura stilistica o l'estetica, ma palesa una certa forza, una sua forza. Ecco l'originalità, è artista colui che riesce ad essere libero, questa è la prima definizione in arte, è artista colui che riesce ad essere fedele e devoto ad un'altissima idea di divinità che si incarna nella libertà rappresentativa, questo è il vero artista, colui che riesce ad essere libero, incondizionato, capace di creare da sé un evento. E Stefano Ussi da questo punto di vista lo è stato, per quanto la sua scelta sia stata più legata ad un qualcosa di superato, perché i macchiaioli erano più all'avanguardia rispetto al clima retorico e di racconto e storiale che Ussi invece ha seguito e ha rappresentato. Ma questi aspetti, queste visioni lo rendono unico, importante, perché il cocervo, perché mosca bianca, perché è diverso? Ovviamente su tutto c'è sempre la validità delle sue opere, come potete vedere nella sequenza di immagini che vi proponiamo, validità di opere che stanno a indicare una sua precisa identificazione concettuale con un prestigio di rappresentazione, di racconto, di storia, di recupero di canoni classici, caratteristici della sua grandezza e della sua storia. Tutto questo è il prodotto di un artista che ha sottoposto all'eggila dell'ideale una passione insaziabile per l'arte, per la creazione e con ciò è riuscito proprio a preservare quella bravura da ogni condizionamento, da ogni aspetto. Ed è anche questo uno dei motivi per cui è giusto parlare di Stefano Ussi anche nell'ambito della più vasta tradizione del realismo, della più vasta tradizione realistica e di ciò che possiamo definire giustamente anche aspetto narrativo e visionario. Stefano Ussi Al prossimo episodio Al prossimo episodio